guardate la renghiera come fuma perché sta arrivando il primo raggio di sole si sta scaldando e il calore fa fare questo effetto qui c'è il lago che però non si vede perché c'è la nebbia bassa per un mare mare di nulli qui c'è una bella gelata strada gelata faccio vedere quel panorama di nonno con la neve tutto un biancato il tarono qui c'è una bellissima pianta di kake stracolma di kake questa è la casa più vecchia del paese nel 1600 guardate che meraviglia questo il suo muro di cinta che arriva fino a fino a giù l'altra casa praticamente prima era tutta una casa unica adesso l'hanno comprata dei tedeschi e gente qua del paese e il cortile è diviso metà questa di qua invece era l'orto qui dove c'è il caco così questo muro qua qui c'è dove aveva l'orto ecco sono al solito in giro con la mia jasmine con il suo cappottino perché guardate che gelo che c'è sulla strada è una cosa micidiale adesso vi faccio vedere ancora un attimo il mare di nuvole che c'è giù sul lago una giornata bella ma c'era la macchina che era gelata e stra gelata bello comunque è bello 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 meraviglioso ancora uno scorcio al mattarone guardate che meraviglia va bene ciao dopo filmato diventa troppo lungo mia jasmine 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 ecco